venezia 81 luca guadagnino e daniel craig al lido con il dramma nuovo film di luca guadagnino alla biennale di venezia nuovo film di luca guadagnino alla biennale di venezia la tante cometta mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia meglio conosciuta come venezia 81 presenta quest'anno un'opera impressionante di luca guadagnino che cattura gli spettatori con il suo peso emotivo e la sua narrazione incentrata sul queer guadagnino noto per i suoi ritratti sensibili come chiamami col tuo nome porta nuovamente alla luce temi complessi che riguardano identità amore e la lotta per l'accettazione al centro del film c'è una storia piena di passione e conflitti interiori guadagnino ha lasciato intendere che il film è ispirato alle sue esperienze e osservazioni personali e desidera creare connessioni con la cultura queer contemporanea attraverso i suoi protagonisti l'approccio all'identità di genere e all'orientamento sessuale è stato incorporato in questa straordinaria produzione in cui i personaggi interpretati da un talentuoso ensemble vivono conflitti reali e profondi l'attore britannico daniel craig divenuto famoso in tutto il mondo per il suo ruolo di james bond ha assunto un ruolo in questo film che è atteso con grande interesse da fan e critici in interviste craig ha sottolineato quanto apprezzi l'opportunità di lavorare a un progetto di guadagnino poiché riconosce la capacità del regista di unire profondità emotiva e splendore visivo questa è stata per lui un'occasione unica per andare oltre il consueto genere d'azione e immergersi in un ruolo sfaccettato e impegnativo insieme a drew starkey noto per il suo ruolo nella serie di successo out air banks il cast del film porta nella storia non solo un'identità queer ma anche una giovane prospettiva starkey ha espresso quanto fosse importante per lui interpretare un personaggio che rifletta questo aspetto dell'esperienza umana si è immerso nel ruolo e ha fatto attenzione a mantenere l'autenticità del personaggio per raggiungere emotivamente il pubblico la trama del film si svolge in una location elegante e al contempo drammatica che cattura perfettamente la bellezza e la complessità di venezia guadagnino è noto per la sua capacità di utilizzare paesaggi in modo cinematografico per amplificare le emozioni i critici hanno già sottolineato che questo film è notevole nella sua composizione visiva e nel modo in cui la musica è integrata nella narrazione ecco la traduzione del testo in italiano si prevede che sia la regia che la colonna sonora contribuiscano in modo significativo alla risonanza emotiva del film venezia è da tempo un luogo di scambio culturale e ispirazione creativa e questo film si inserisce perfettamente in questo patrimonio guadagnino ha costantemente perseguito l'obiettivo di connettere le persone attraverso il cinema e il contributo di quest'anno alla biennale non fa eccezione la sua capacità di raccontare storie che affrontano temi sociali importanti è particolarmente apprezzata in un momento in cui molti riflettono su questioni di identità e giustizia complessivamente il nuovo film di guadagnino alla biennale di venezia promette di essere una prova notevole della forza del cinema queer attraverso la collaborazione con attori di talento come daniel craig e drew starkey lo spettatore sarà coinvolto in un viaggio emotivo che sicuramente rimarrà a lungo nella memoria autore anita faache mercoledì 4 settembre 2024